L'Istituto Corrado Melone di Ladispoli ha centrato il secondo posto al Festival Internazionale Extra Buvi. Gli studenti sono stati premiati per il loro cortometraggio intitolato L'Allievo Dima della Settima Classe. La realizzazione del video, coordinata dalla professoressa Angela Nicoara, è stata portata a termine da un gruppo di otto ragazzi. Il filmato ha ben figurato nella competizione europea, conquistando il secondo gradino del podio. La premiazione si è svolta in diretta attraverso un collegamento online sulla piattaforma Zoom, con la partecipazione di varie scuole e associazioni di tutto il continente. Il saluto ufficiale dell'Istituto Melone è stato portato dalla professoressa Stefania Pascucci e dal preside Riccardo Agresti. Tra i premi, diversi libri e la licenza del software Corel Video Studio. La rassegna di cortometraggi finanziata dal governo romeno nasce dall'idea dell'associazione Grow Up Project. L'obiettivo è quello di perfezionare le abilità di lettura e comprensione della lingua degli studenti di origine romena residenti in Europa, per la conservazione della coscienza nazionale e l'integrazione degli allievi.